le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 19 pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per gastigo si busca quattro mesi di prigione il burattino ritornato in città cominciò subito a contare i minuti a uno a uno e quando gli parve che fosse l'ora riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli e mentre camminava con passo frettoloso il cuore gli batteva e gli faceva tic tac tic tac come un orologio da sala quando corre davvero e intanto pensava dentro di sé e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila oh che bel signore allora che diventerei vorrei avere un bel palazzo mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi di torte di panettoni di mandorlati e di cialdoni con la panna così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete ma non vide nulla fece altri cento passi in avanti e nulla entrò sul campo andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galateo e della buona creanza tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo in quel mentre sentì fischiare negli orecchi una gran risata e voltatosi in su vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso perché ridi gli domandò pinocchio con voce di bizza rido perché nello spollinarmi mi sono fatto il solletico sotto le ali il burattino non rispose andò alla gora e riempita d'acqua la solita ciabatta si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo insomma gridò pinocchio arrabbiandosi si può sapere pappagallo maleducato che cosa ridi rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro parli forse di me si parlo di te povero pinocchio di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene oggi ma troppo tardi mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa non ti capisco disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura pazienza mi spiegherò meglio soggiunse il pappagallo sappi dunque che mentre tu eri in città la volpe e il gatto sono tornati in questo campo hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge è bravo pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio ma le monete non c'erano più preso allora dalla disperazione tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età per la sua barba bianca e specialmente per i occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni pinocchio alla presenza del giudice raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima dette il nome il cognome i connotati dei malandrini e finì chiedendo giustizia il giudice lo ascoltò con molta benignità prese vivissima parte al racconto si intenerì si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la sua mano e suonò il campanello a quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da gendarmi allora il giudice accennando pinocchio ai gendarmi disse loro quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione il burattino sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo rimase di princi sbecco e voleva protestare ma i gendarmi a scanso di perditempi inutili gli tapparono la bocca e lo condussero in gatta buia e lì vebbe a rimanere quattro mesi quattro lunghissimi mesi e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di acchiappa citrulli avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici ordinò grandi feste pubbliche luminarie fuochi artificiali corse di barberi e velocipedi e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io disse pinocchio al carceriere voi no rispose il carceriere perché voi non siete del bel numero domando scusa replicò pinocchio sono un malandrino anch'io in questo caso avete mille ragioni disse il carceriere elevandosi il berretto rispettosamente e salutandolo gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare